Due palermitani di 41 e 44 anni sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo di Palermo Piazza Verdi accusati di violenza sessuale di gruppo. L'indagine coordinata dalla procura di Palermo ha consentito di fare luce sullo stupro subito da una turista nel novembre del 2023. All'inchiesta hanno collaborato i militari appartenenti alla rete antiviolenza del comando provinciale. La vittima, una cittadina canadese, sarebbe stata fatta ubriacare dai due che l'hanno poi seguita fino al B&B in cui alloggiava e l'hanno stuprata ripetutamente. La donna, completamente stordita, si è risvegliata sola in camera la mattina successiva e si è accorta che le erano state anche rubate dai soldi. Ad avvisare i carabinieri furono i medici del policlinico che avevano in cura il fidanzato della donna, allora ricoverato in ospedale. L'uomo riferì loro che la propria compagna era stata violentata. Gli investigatori andarono nell'albergo per accertarsi che il racconto fosse vero e trovarono la vittima in stato di shock. Solo dopo qualche ora la canadese riuscì a raccontare cosa era accaduto.